Musica La procura di Marsala indaga su un presunto giro di tangenti tra pubblico ufficiale ed imprenditori attorno al parco archeologico di Sidi Nunte e al museo del satiro danzante. Se le misure cautelari notificate dai finanzieri di Trapani e Castelvetrano. I capannoni per il carnevale si faranno alla perriera nel sito a suo tempo individuato e si vedrà con le somme disponibili quello che si riuscirà a realizzare. Ieri incontro tra amministrazione tecnici ed esponenti della DC. Terme di sciacca, stiamo valutando una serie di nostre proposte fermo restando che il documento approvato in Consiglio Comunale è, secondo noi, la miglior base di partenza. Così il presidente di Mizzica, Palumbo. Se i termini di prescrizione cambiano, il contraente o gli eredi di una polizza assicurativa devono esterne informati. Lo hanno stabilito il Tribunale di Sciacca e la Corte d'Appello di Palermo, accogliendo l'istanza di una famiglia. Proteggere le donne. Incontro sulla violenza di genere. Ieri pomeriggio al Circolo di Cultura organizzato dalla FIDAPA. Relatore, l'Avvocato La Scala, presidente di Gens Nova, intervenuto anche ad un'iniziativa del Don Michele Arena. Tutela dell'ambiente. Domenica 19 marzo. L'iniziativa nazionale del WWF denominata Ripartiamo verrà attuata a sciacca sulla spiaggia di Capo San Marco. Si procederà alla pulizia del litorale, dove da anni vanno a nidificare le tartarughe. Un cordiale benvenuto. Bentrovati su Telemonte Cronio per un nuovo appuntamento con le notizie. Oggi la cronaca in apertura. La Guardia di Finanza di Trapani e Castelvetrano hanno notificato sei misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Marsala su un presunto giro di tangenti tra pubblici, ufficiali e imprenditori. Attorno, tra gli altri, al Parco archeologico di Selinunte e al Museo del Satiro Danzante. I dettagli in questo servizio. Un patologico sistema clientelare per l'assegnazione di pubbliche commesse ad un cartello di imprese. E' questa l'accusa contestata dalla Procura di Marsala nell'inchiesta denominata Selinus sul Parco di Selinunte basata su indagini della Guardia di Finanza di Castelvetrano che ha portato alla temporanea interdizione dei pubblici uffici al divieto di contrattare con la pubblica amministrazione nei confronti dell'ex direttore del Parco di due funzionali regionali e di tre privati imprenditori. L'ordinanza cautelare del GIP è stata eseguita dai finanzieri del Comando Provinciale di Trapani contestati in particolare quelli che vengono definiti plurimi episodi di corruzione e abuso d'ufficio negli appalti per il Parco archeologico ma anche per le cave di Cusa e per Pantelleria tra il 2020 e il 2021. L'inchiesta si basa su indagini delle fiamme giare di Castelvetrano avviate nell'estate del 2020 che secondo l'accusa hanno consentito di accertare molteplici irregolarità nella concessione di appalti pubblici da parte dell'ente archeologico e numerosi episodi illeciti a carico dell'allora direttore del Parco di due funzionari regionali e di tre privati imprenditori. Secondo l'accusa a fronte dell'assegnazione di pubblici lavori gran parte dei quali attribuiti in somma urgenze ad attraverso uno strumentale utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione, il cosiddetto MEPA il responsabile dell'ente percepiva dalle imprese affidatarie varie utilità tra le quali opere di ristrutturazione presso abitazioni private nella disponibilità dello stesso pubblico ufficiale e di suoi familiari nelle province di Palermo ed Agrigento nonché interventi di trasloco, giardinaggio e disinfestazione presso i predetti domicili. Analoghe condotte corruttive, contesta la Procura venivano rilevate a carico del funzionario di Favara il quale, in qualità di responsabile unico del procedimento di vari appalti contestati dalla Guardia di Finanza facilitava l'illecita assegnazione delle commesse a favore di talune ditte da queste ricevendo utilità monetarie e l'assunzione lavorativa dei propri familiari. Tra gli episodi illeciti e maggiormente significativi la Procura di Marsala cita gli appalti legati ai lavori di adeguamento Covid-19 svolti al Museo del Satiro Danzante di Mazzara del Vallo nel giugno 2020 e quelli relative alla preparazione dell'evento di commemorazione dei coniugi Tusa tenutosi nel dicembre dello stesso anno presso l'area archeologica Selinuntina. In quasi due anni di indagini avviate nel 2020 che costruisce la Procura di Marsala gli accertamenti delle fiamme gialle si sono avvalsi di incroci di banche dati intercettazioni telefoniche analisi di tabulati telefonici telecamere occulte accertamenti bancari e pedinamenti. Inoltre i finanziari si sono avvalsi di un Trojan installato sul dispositivo cellulare in uso ad uno degli imprenditori legato all'ex direttore del parco da solidi e ben celati legami di amicizia. Grazie al captatore informatico sottolinea la Procura di Marsala la Guardia di Finanza attivando il microfono del cellulare infetto è riuscita a costruire un quadro probatorio di assoluto rilievo utile a dimostrare l'esistenza all'epoca delle indagini di un patologico sistema clientelare nel parco archeologico Selinuntino preordinato all'assegnazione di pubbliche commesse ad un cartello di imprese per lo più agrigentine riconducibile alle figure dei tre imprenditori. A Licata si indaga sul misterioso ferimento di un giovane di 16 anni del luogo giunto al pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo d'Alto Passo con un proiettile in testa. Secondo una prima ricostruzione il giovane è stato accompagnato al nostro comio dove avrebbe raccontato ai medici di essere caduto dai successivi accertamenti disposti anche per le critiche condizioni di salute è emersa la presenza di un proiettile di 7 mm nel cranio con emorragia in corso. Per questo motivo è stato disposto immediatamente il trasferimento del ragazzo all'ospedale Sant'Elie di Caltanissetta dove è stato operato. La prognosi è riservata sulla vicenda indagano i poliziotti del commissariato di Licata. E siamo all'attentato omicidio a Palma di Montechiaro fuori pericolo dopo l'operazione di oltre 6 ore cui è stato sottoposto all'ospedale Sant'Elie di Caltanissetta il pastore bracciante agricolo di 43 anni che ieri mattina è stato raggiunto da alcuni colpi di fucile sparati da un'auto sulla statale 115 nei pressi del Bivio per Palma di Montechiaro. Secondo una prima ricostruzione a sparare sarebbero stati due uomini a bordo di una Fiat Punto che si è affiancata a quella dell'agricoltore auto che era stata rubata e che è stata poi abbandonata e data alle fiamme poco lontano dal luogo dell'agguato. All'interno è stato rinvenuto anche il fucile usato per il tentato omicidio. Sulla vicenda indagano i carabinieri alla procura di Agrigento che già ieri hanno sentito i familiari del 43enne e nelle prossime ore quando le sue condizioni di salute lo consentiranno raccoglieranno ulteriori elementi dalla vittima per ricostruire il contesto del tentato omicidio e proseguire le indagini per individuare i responsabili. Capannoni per il Carnevale si faranno alla Perriera nel sito a suo tempo individuato accanto all'area di ammassamento si vedrà con le somme a disposizione quello che si riuscirà a realizzare posto che l'area richiede considerevoli interventi per le fondamente. Quanto viene fuori dalla riunione tra l'amministrazione i funzionali comunali e gli esponenti della DC che nelle scorse settimane avevano sollecitato un confronto sui finanziamenti inseriti nella finanziaria regionale 850 mila euro per i capannoni 450 mila per il campo Giuffre i dettagli in questo servizio Un confronto costruttivo quello che si è svolto ieri pomeriggio tra l'amministrazione comunale gli uffici competenti e gli esponenti della DC di Sciacca sui fondi messi a disposizione nell'ambito della finanziaria regionale per i capannoni e per il campo Giuffre Alla riunione ha preso parte il consigliere Filippo Bellanca È un primo passo ed è importante perché per la prima volta si sta parlando di una somma messa a disposizione dalla regione siciliana per la realizzazione di capannoni oleari e poi capannoni con un'aggiunta di altre somme ma intanto si sta parlando di capannoni perché il carnevale ormai come tutti i carnevali d'Italia quelli più importanti certamente non possono più andare avanti se non hanno le strutture idonee si sta cercando di capire con queste somme messe in finanziaria c'è 850 mila euro che cosa si riesce a realizzare certamente si può realizzare la preparazione la base per poi collocare su delle strutture si stanno cercando di avere il comune si sta muovendo per avere dei preventivi anche per capire un attimino delle strutture leggere anche con dei coibendati come sono state per esempio fatte a Termini Merese per capire i costi reali quali sono e con gli 850 mila euro vedere dove si riesce ad arrivare principalmente per il fatto che quella zona è una zona che ha bisogno ovviamente di consolidamento del terreno e quindi ci sono un po' di costi in più una prima scelta che è stata fatta cioè quella di mantenere quel sito la perriera ma guardi non è una scelta di capriccio una scelta di piacere quella zona è una zona che intanto tutte le amministrazioni degli ultimi 20 anni forse anche di più hanno cercato di individuare una zona per la realizzazione dei cavannoni ed è sempre stata questa l'idea dell'ex galoppatoio per capirci di fronte allo stadio alternativo ma perché è una zona uno che è vicino alla statale che immediatamente collega l'eventuale via Cappuccini qualora si decidesse di fare partire il carnevale da via Cappuccini due è collegato con la perriera e con il museo del carnevale e quindi diciamo che qualora si decidesse di farlo della zona della perriera è immediatamente collegato poi ricordiamoci che sono delle strutture che qualora venissero realizzate e rese funzionali sono delle strutture che dovrebbero essere visitabili tutto l'anno dai turisti quindi non possono essere messe in zone disperse come si è parlato per qualche volta anche nella zona di Santa Maria senta per quanto riguarda lo stadio Giuffre invece questi 450 mila euro disponibili per che cosa saranno utilizzati? ma guardi ieri si è affrontato il problema legato alla a rendere intanto lo stadio Giuffre agibile perché non ha senso fare l'eventuale erba sintetica e poi lo stadio non è agibile quindi bisogna capire anche lì fare un'analisi dei costi dettagliata e questo l'ufficio ci sta già pensando dettagliata per capire cosa si riesce a fare con questa somma di 450 mila euro se si può realizzare sia l'erba sintetica e sia la messa in sicurezza dello stadio in generale per renderlo agibile se no non ha senso fare l'erba sintetica e non avere lo stadio agibile però in ogni caso con questa base di finanziamento data dalla regione siciliana dalla finanziaria a ricordo con un emendamento a primo firmatario l'onorevole Carmelo Pace e poi avallata ovviamente con la sua firma dall'onorevole Michele Catanzaro questa è una base di partenza importante è chiaro che se non bastano o si interviene con la cassa deposito e prestiti del comune e in condizioni ha la capacità di indebitamento per farla o si attinge a fondi PNRR o si vede nella prossima finanziaria che sarà fatta a novembre se c'è la possibilità di avere un ulteriore finanziamento Senta ma questi fondi regionali quando saranno disponibili i decreti a suo avviso arriveranno entro quanto? Guardi intanto è una legge della regione siciliana quindi sono fondi che si possono già inserire nel bilancio del comune è chiaro che adesso bisogna vedere con gli uffici regionali per capire quando arriverà il decreto ma noi dobbiamo essere pronti perché ad oggi non abbiamo ovviamente i progetti esecutivi per essere pronti quindi dobbiamo immediatamente lavorare sulla progettazione questo si è detto ieri nella riunione che c'è stata la disponibilità totale da parte del sindaco dell'amministrazione ma da parte anche dell'ingegnere regione degli uffici il dibattito sulle terme di Sciacca dopo l'iniziativa del comitato civico patrimonio termale quella dell'associazione ora basta oggi sul tema interviene anche l'associazione Mizzica stiamo vagliando una serie di nostre proposte dice al nostro telegiornale il presidente Salvatore Palumbo il quale invoca unità da parte delle forze politiche saccenzi il documento approvato in consiglio comunale è la migliore base di partenza dice ai nostri microfoni ascoltiamolo comunque il consiglio ha dimostrato unità su questo argomento approvando all'unanimità assolutamente ma è questo quello che è quindi quella è una buona base di partenza la strada questa è il documento unitario approvato dal consiglio comunale di Sciacca la migliore delle basi di partenza per fare sulla vicenda termale un lavoro il più unitario possibile da parte delle forze politiche della popolazione a dirlo oggi è Salvatore Palumbo presidente dell'associazione Mizzica che dopo le iniziative dell'associazione ora basta del comitato civico patrimonio termale nonché della commissione consigliare attività produttive presedute da Raimondo Bruccoleri oggi prende posizione per chiarire che il movimento del sindaco Fabio Termine sta lavorando ad una serie di ipotesi di lavoro che rendo anche le modalità di intervento possibile noi abbiamo un tavolo tecnico permanente che abbiamo istituito quando si è palesata la possibilità di cassa depositi e prestiti la situazione alle terme è molto complessa e secondo me una strada solamente non può essere percorribile bisogna mettere sul campo diverse idee diversi approcci e quindi è quello che abbiamo voluto fare e che stiamo facendo stiamo cercando di analizzare diverse idee dallo spezzatino ad una soluzione unitaria ecco per cercare di capire innanzitutto effettivamente quale potrebbe essere la soluzione migliore non tutto è perduto dice l'amministrazione comunale nel frattempo i comitati soprattutto l'associazione Ora Basta dice a questo punto è meglio suddividere i beni quindi parcellizzarli e appaltarli singolarmente qual è la sua opinione si può trovare una sintesi tra queste due si deve trovare una sintesi tra queste due idee anche perché se da un lato il cosiddetto spezzatino potrebbe portare a qualche soluzione io vorrei riprendere le parole di Nino Porrello perché secondo me uno dei fattori importanti di tutto il comparto termale sono sicuramente le acque e quindi un approccio che vada solo a diciamo interessare e focalizzarsi sull'aspetto immobiliare tralasciando diciamo le acque che sono uno dei beni più importanti secondo me non è il miglior approccio tra le possibilità di intervento per recuperare il terreno perduto sulle terme Salvatore Palumbo non esclude anche un'ipotesi di lavoro circa quell'azionariato popolare da cui di fatto scaturì l'idea stessa di sviluppo della città di Sciacca che col passaggio della proprietà degli impianti alla regione avrebbe poi perso ogni contatto con quella realtà Mizzica vuole mettere sul tavolo qualsiasi tipo di possibilità quindi stiamo studiando tutto quello che può essere un'alternativa a ciò che fino ad ora è stato fatto e che non ha trovato un riscontro con la realtà abbiamo visto che i bandi fino ad ora sono andati deserti oggi come oggi bisogna mettere in campo tutte le forze e coinvolgere la popolazione noi dobbiamo essere un'unica anima che lotta per le terme secondo noi l'approccio da cui si deve partire è diverso cioè deve essere un approccio che guarda alle forze che nel territorio potrebbero sicuramente dare un apporto importante per riprendere il comparto delle terme le pensa soprattutto agli imprenditori turistici più importanti Roccoforte non solo a loro io penso che secondo me Mizzica si sta caratterizzando e si è sempre caratterizzata per un approccio dinamico e soprattutto un approccio fattivo quindi non più un approccio che sia solo tecnico o solo un bando dobbiamo iniziare a sentire tutti i comparti che potrebbero essere interessati dal riaprire le terme e creare veramente una forza unica insieme a tutta la popolazione di Sciacca ma è una popolazione lo ammetterà che in buona percentuale purtroppo ahimè guarda queste terme con grande indifferenza e dislusione l'indifferenza nasce dal fatto che chi dovrebbe scuotere le coscienze evidentemente per molto tempo non lo ha fatto più le terme sono chiuse da otto anni e credo che ogni cittadino di Sciacca voglia la riapertura delle terme noi attori politici ci dobbiamo impegnare anche per non solo cercare una soluzione a questo problema ma anche toccare le coscienze di chi ha perso la speranza le terme sono della città di Sciacca e quindi credo che al di là dei colori politici al di là delle diverse visioni ecco su come si possa risolvere il problema credo e utilizzo sempre le parole del sindaco Fabio Termine che l'approccio migliore sia quello unitario cioè tutte le forze politiche devono esprimersi affinché si possa veramente venire a capo di questo nostro problema quando licenzierete le vostre proposte? sicuramente prima dell'estate le imprese siciliane sono sempre più soggette a reati informatici nell'ultimo anno nella nostra regione sono infatti cresciuti del 12,4% tra le province i reati informatici registrano una crescita più accentuata Messina più 26,8% Caltanissetta 15,2% e Agrigento più 15,2% e quanto rileva l'osservatorio economico di confartigianato imprese Sicilia nel suo ultimo report l'incidenza del fenomeno è pari a 48 denunce ogni 10.000 abitanti in particolare sono monitorati i casi di virus spyware e malware accesso non autorizzato a file o reti attacco di os che impedisce di accedere alla rete o alle risorse del computer ascolto non autorizzato di videoconferenze o messaggi istantanei se i termini di prescrizione cambiano il contraente o gli eredi di una polizza assicurativa devono esserne informati lo hanno stabilito due tribunali quello di Sciacca e la corte di appello di Palermo accogliendo l'istanza di un nucleo familiare che ha chiesto e ottenuto il pagamento del premio di una polizza vita che era stata sottoscritta dal capo famiglia c'è il servizio ogni modifica del termine di prescrizione per il pagamento del premio di una polizza vita deve essere comunicata personalmente al cliente interessato e non è sufficiente ritenere di avere adempiuto a questo obiettivo attraverso una campagna pubblicitaria sui giornali a stabilirlo sono stati due tribunali quello civile di Sciacca e la corte d'appello di Palermo entrambi infatti hanno giudicato fondata l'istanza di un nucleo familiare madre e due figli che nel 2012 quattro anni dopo la morte del capo famiglia avendo appreso che questi aveva stipulato una polizza assicurativa con poste vita aveva richiesto alla predetta compagnia il pagamento del premio che gli competeva poste vita però aveva risposto che quel premio dell'ammontare di circa 17.500 euro era già stato versato al fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie procedura questa prevista dalla norma per tutte le polizza cosiddette dormienti così come si definiscono quei rapporti che dopo un certo periodo di tempo non vengono più reclamati da alcuno una procedura adottata sulla base del termine prescrizionale di due anni che evidentemente era già scaduto la polizza era stata stipulata nel 2005 il contraente era deceduto nel 2008 la richiesta di pagamento del premio da parte degli eredi nel 2012 l'avvocato Luigi Licari del foro di Sciacca a cui si sono rivolti i familiari dell'uomo che aveva stipulato la polizza ha evidenziato non solo che il contratto originario stabiliva una prescrizione decennale ma che poste vita non aveva neanche rispettato l'impegno assunto dalla stessa compagnia con l'autorità garante del mercato impegno in cui si stabiliva che di fronte alla mutazione del precedente impegno aziendale con termini prescrizionali nel frattempo scesi da 10 a 2 anni anche sulla base di alcune novità legislative che lo consentivano avrebbe dovuto avvertire i contraenti comunicando modifiche contrattuali e nuove norme intervenute con un avvertimento nero su bianco che alla scadenza dei due anni dalla morte del contraente la polizza vita sarebbe stata considerata dormiente poste vita assistita dagli avvocati Curcuruto e Gasparini del prestigioso studio legale Chiomenti di Milano ha negato ogni profilo di inadempimento la compagnia ha anche informato il tribunale di avere trasmesso una comunicazione delle modifiche intervenute assolvendo così all'obbligo informativo contestato dalla parte avversa tuttavia non è stata in grado di provarlo non avendo fatto l'invio a mezzo raccomandata per il giudice del tribunale di Sciacca Filippo Lopresti nella prima delle due sentenze che hanno dato ragione a chi aveva stipulato la polizza l'assolvimento degli obblighi informativi era doveroso perché senza una diretta comunicazione delle sopraggiunte novità di politica aziendale pur dipendenti dalla innovazione normativa il difetto della specifica informazione era assimilabile ad una omissione ingannevole producendo effetti analoghi ad una pratica in danno del consumatore violando gli obblighi di buona fede e di consapevolezza del consumatore stesso considerazioni condivise in appello posta evita è stata così condannata al pagamento di oltre 20.000 euro oltre gli interessi legali decorrenti dal 2012 si è insediato ieri il nuovo direttore dell'azienda idrica Comuni Agrigentini l'incarico a Claudio Guarneri era stato conferito nelle scorse settimane dal commissario Scalia durante la prima giornata di lavoro il direttore generale ha incontrato i sindacati e ha affrontato la questione del contratto di lavoro del personale al servizio dell'azienda pubblica che gestisce il servizio idrico in provincia di Agrigento i sindacati chiedono l'applicazione del contratto gas e acqua e pare che a conclusione della riunione sia venuta fuori una intesa per soddisfare la richiesta a partire dal prossimo mese di maggio proteggere le donne incontro sulla violenza di genere ieri pomeriggio al circolo di cultura di Sciacca organizzato dalla locale sezione della FIDAPA relatore l'avvocato Antonio Maria Lascala presidente nazionale di Gens Nova e docente presso l'università di Bari l'avvocato Lascala è stato il relatore questa mattina anche dell'iniziativa che si è svolta all'istituto Don Michele Arena sul tema bullismo e cyberbullismo ma è più violenza di genere ce ne parla in questo servizio Santina Matalone non solo violenza sulle donne ma la violenza di genere è il tema che in questa settimana dedicata all'8 marzo sta interessando convegni dibatti di scuole club service la FIDAPA di Sciacca ha affrontato il tema con un dibattito dal titolo proteggere le donne un incontro moderato dall'avvocato Antonio Maria Lascala presidente dell'associazione Gens Nova in realtà è una questione di cultura il nostro incontro di oggi si chiama proteggere le donne proteggere le donne significa anche informarle e formarle su quelle che sono le situazioni da cui devono stare a distanza su quelli che sono i propri diritti su quello che è il contesto in cui spesso queste violenze si consumano FIDAPA in realtà è sempre molto attenta a questi momenti formativi e informativi e per questo motivo in realtà abbiamo strutturato una sorta di trilogia della festa della donna oggi con la presenza dell'avvocato La Scala che ringraziamo veramente moltissimo per avere ritagliato questo spazio di tempo per noi parleremo appunto di protezione della donna mentre invece giorno 8 nella Sala Blasco daremo vita ad un momento culturale con degli arazzi di Lucia Stefanetti e con il racconto di alcune donne e poi giorno 12 faremo un altro incontro al Palazzo Scaglione e ripeteremo una bellissima performance di teatro che si lega molto al contesto della Casa Museo Scaglione che si chiama appunto Ferite ad Arte un testo scritto dentro FIDAPA da Maria Grazia Catania diretto da Maria Grazia Catania e interpretato da alcune delle nostre socie della FIDAPA un fenomeno quello del femminicidio che purtroppo sembra non arrestarsi ma che necessita in primisi di un cambiamento culturale di pensiero si parla ogni giorno e forse per certi versi si parla molto e si conclude poco ed è proprio per questo che con l'associazione Gens Nova che ho l'onore di presiedere cerchiamo invece di concludere più che parlare soltanto in che modo bene costituendoci parte civile settimanalmente accanto alle famiglie di donne purtroppo assassinate o nel caso in cui sono vite donne ferite violentate picchiate maltrattate quello credo che sia la prima delle attività da fare cioè un'assistenza concreta ed effettiva a questa deve poi affiancarsi un'opera di prevenzione attraverso l'informazione e la formazione perché tuttora ma sono vent'anni che lo faccio dovunque vado vedo ancora che ci sono molti luoghi comuni sbagliati magari il fatto che la donna non facilmente denuncia questo tipo di violenza è anche il fatto che non c'è subito una conclusione diciamo sia dell'indagine ma anche del processo per cui può portare la donna anche a pensarci non una volta anche tre volte ed è quello che succede sapendo che la giustizia in Italia sicuramente non è rapida al contrario è lenta molto spesso la vittima non è incoraggiata perché dice se anche denuncio nell'ipotesi migliore che venga arrestato fa 3, 4, 5 mesi di arresti domiciliari e poi sta fuori un primo grado appello e casazione dura mediamente 4, 5 anni in Italia che fa in tutto l'altro periodo comunque dovrà incontrare quella persona prima o poi se abita nella stessa città lo stesso divieto di avvicinamento impedisce di avvicinarmi a 300 metri ma pensiamo a una città qualunque di medie e piccole dimensioni i luoghi frequentati quelli sono cioè diventa un inferno vivere nella stessa città dove vive il carnefice e in questo caso che si fa allora? in questo caso mi aspettavo che il codice rosso intervenisse con maggior decisione ad esempio obbligando il braccialetto o comunque un satellitare a tutti gli autori dei reati in attesa di giudizio in modo tale che nel momento in cui solo si avvicinano alla vittima le forze di polizia vengono immediatamente allertate possono avvisare la vittima di non muoversi in attesa di fare ad esempio pervenire una pattuglia questo potrebbe già essere a livello repressivo potrebbe essere un segnale molto attivo il dibattito sull'argomento violenza di genere anche nelle scuole sempre più frequenti gli incontri su forme di violenza stamane gli studenti dell'istituto Don Michele Arena hanno affrontato le insidie del web con esperti e forze dell'ordine oltre all'avvocato la scala presenti Rossana Daniele del foro di Marsala il capitano Luca Zecchini comandante della compagnia della guardia di finanza di Sciacca e Franco Zerilli sezione Anfi Sciacca delegato Gensenova Sicilia Sensibilizzare la collettività sull'importanza della vaccinazione contro il papillomavirus per proteggere efficacemente sia le donne sia gli uomini delle prossime generazioni da tutti i tumori correlati quali quelli della sfera genitale in particolare del collo dell'utero e quelli a danno di altre sedi questo è l'obiettivo di un'azione congiunta fra la scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva dell'Università degli Studi di Palermo e il Servizio di Epidemiologia del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento l'iniziativa prevede due giornate formative il 9 e il 16 marzo presso gli istituti comprensivi Falcone Borsellino e Gaetano Guarino di Favara a seguito degli eventi formativi gli studenti che non hanno ancora effettuato la vaccinazione contro il papillomavirus potranno soffrire di percorsi facilitati per l'accesso alla prenotazione presso i centri vaccinali dell'Aspedia Agrigento dati scientifici evidenziano che la somministrazione del vaccino tra gli 11 e 14 anni riveste un'importanza strategica non soltanto perché produce un'efficace protezione prima di un eventuale contagio con papillomavirus ma anche per la migliore risposta immunitaria riscontrata in questa fascia d'età con il riferimento al recente provvedimento con cui la regione ha adottato l'elenco dei comuni a vocazione turistica in relazione a specifiche segnalazioni pervenute da parte di alcune amministrazioni escluse come Partanna Sperling e Mistretta ho formalmente richiesto all'Istituto Nazionale di Statistica che ha elaborato l'elenco di conoscere le motivazioni della mancata inclusione di questi comuni lo dichiara l'assessore regionale al turismo Elvira Amata atteniamo gli esiti delle verifiche avviate prosegue l'assessore pur registrando in Sicilia un alto numero di comuni censiti pari al 75% circa ci auguriamo al contempo che l'elenco possa essere arricchito da una presenza di enti sempre più significativa conferma dell'esigenza di garantire un'offerta turistica ancora più consistente sul territorio regionale in tal senso conclude Amata raccolgo in piena condivisione le sollecitazioni del sindaco di Partanna e parlamentare dell'assemblea regionale siciliana Nicolo Catania rispetto alla mancata inclusione nell'elenco del proprio comune nonché dei sindaci di Sperlinga e Mistretta che si sono uniti nelle richieste di chiarimenti beni culturali tornerà fruibile al pubblico il castello Poggio Diana di Ribera grazie ad un finanziamento di 400.000 euro del Galsicani ieri sopra luogo dei tecnici ce ne occupiamo in questo servizio tornerà fruibile al pubblico il castello Poggio Diana di Ribera grazie ad un progetto che ammonta complessivamente a circa 400.000 euro finanziato dal Galsicani e al quale sono state assegnate delle risorse aggiuntive da parte dell'assessorato regionale all'agricoltura sviluppo rurale pesca mediterranea ieri sopra luogo dei tecnici e dei funzionari dell'assessorato regionale al castello e poi riunione al comune di Ribera per fare il punto della situazione sul progetto che prevede interventi di messa in sicurezza e prima fruizione del castello Poggio Diana e costituzione della rete museale del distretto rurale di qualità Sicani Un'apposita convenzione è stata sottoscritta tra gruppo di azione locale Parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento e comune di Ribera Siamo evidentemente soddisfatti e contenti dell'iniziativa che abbiamo promosso insieme con il GAL e con il Parco archeologico Valle dei Templi che permetterà quindi di rendere di nuovo fruibile il castello di Poggio Diana con la messa in sicurezza dei locali degli ambienti e del percorso che porta al castello e anche l'illuminazione che evidentemente sarà ancora più risalto al nostro monumento storico più importante Logicamente mi preme ringraziare tutti coloro che sono intervenuti a partire dal sindaco che ha lavorato all'acremente per ottenere questo finanziamento all'agenzia Galsicani che sta programmando diverse iniziative di promozione del territorio che sono dal punto di vista turistico veramente rilevanti e in cui crediamo molto anche il supporto da parte dei tecnici del parco archeologico e della regione siciliana ci fa stare tranquilli e credere fortemente che il progetto venga realizzato in breve tempo e che permetta un ulteriore sviluppo della nostra capacità ricettiva turistica e di promozione del territorio Quando partiranno i lavori? Ieri i tecnici si sono confrontati sulle casse per fare i primi interventi di pulizia perché il sito anche a causa della frana che ha interessato la strada che porta al castello negli ultimi mesi per non dire nell'ultimo anno è stato del tutto lasciato all'abbandono quindi una volta realizzata la pulizia e congordati i tempi di intervento il cantiere potrà partire sono fiducioso nel giro di pochi mesi entro l'estate che l'intervento possa essere già operativo Verrà effettuata nella spiaggia di Capo San Marco a Sciacca domenica 19 marzo l'iniziativa a livello nazionale denominata Ripartiamo del WWF si procederà alla pulizia del litorale dove da diversi anni vanno a nidificare le tartarughe vediamo Il progetto Ripartiamo si propone come iniziativa concreta per coinvolgere quante più persone possibili a difesa e salvaguardia del territorio nazionale insieme ai giovani scuole, famiglie aziende e intere comunità il WWF scende in campo con attività di pulizia opere naturalistiche e iniziative di sensibilizzazione per ripristinare fiumi, spiagge e fondali Ripartiamo all'obiettivo di rendere i giovani le famiglie e le intere comunità protagonisti della salvaguardia e del restauro della natura d'Italia e rappresenta la più grande mobilitazione nazionale per la tutela del territorio C'è la soddisfazione del responsabile del WWF Sicilia Area Mediterranea Giuseppe Mazzotta per l'inserimento di sciacca nel progetto nazionale L'appuntamento è per domenica 19 marzo a Capo San Marco con ritrovo allo stabilimento Snello Biccio alle 8.30 si procederà ad una pulizia straordinaria del litorale Sacenze dove da anni peraltro vanno a nidificare le tartarughe caretta caretta attualmente invaso dalle microplastiche così come da rifiuti ingombranti l'obiettivo di questa grande mobilitazione collettiva è ripristino di spiagge litorali ma anche sponde dei fiumi laghi e aree naturali nelle zone distanti dal mare il 19 marzo sono previsti 8 eventi principali in Italia e 50 eventi di pulizia delle spiagge a carattere locale tra queste ripartiamo Sciacca è fondamentale l'iscrizione all'apposito link della manifestazione del WWF per poter partecipare all'iniziativa a tutti i volontari sarà consegnato il kit di ripartiamo con maglietta guante e cappellino un convegno per fare il punto della situazione riguardante il dopo di noi il mondo della disabilità e gli amministratori di sostegno questa è l'iniziativa del Lions Club Sciacca Host che si è soprattutto soffermato sul problema dei genitori di persone con disabilità per garantire il futuro dei propri figli nel momento in cui non saranno più in grado di provvedervi direttamente vediamo dopo di noi disabilità problematiche legate all'Alzheimer e amministratori di sostegno questi gli argomenti più dibattuti durante un importante incontro organizzato dall'Alliance Club Sciacca Host preseduto da Giuseppina Bonafede che si è svolto nel locale del Circolo di Cultura di Sciacca a moderare il convegno Marco Maggio mentre gli interventi sono stati affidati al sindaco Fabio Termine ad Antonio Cardaci a Giacomo Cortese presidente della Zona 28 a Daniela Campione a Calogero Cirafisi e a Francesca Maggio con gli intermezzi musicali del maestro Paolo Scanabissi come è noto il principale problema dei genitori di persone con disabilità è garantire il futuro dei propri figli per il momento in cui non saranno più in grado di provvedervi direttamente le famiglie infatti spesso vengono lasciate sole e scarsi sono gli aiuti da parte delle istituzioni politiche e sanitarie come affrontare il dopo è uno scenario di fronte al quale la famiglia chiede di non essere lasciata sola e di essere accompagnata in modo tale da avere maggiore serenità per il dopo è necessario quindi tracciare un percorso di crescita e di autonomia per il futuro della propria famiglia e della persona con disabilità un percorso da costruire giorno dopo giorno quando i genitori sono ancora in vita cercare in tutti i modi di aiutare proporre soluzioni sollevare l'attenzione dell'opinione pubblica su questi nuclei familiari in difficoltà è un dovere sociale e l'incontro è servito appunto per parlare di questa opportunità e grazie ai competenti relatori di toccare i cuori e sensibilizzare le coscienze nella speranza che qualcosa di buono possa accadere in futuro oltre ai soci Lions ampio spazio è stato dato anche ai referenti delle associazioni di volontariato del territorio che tutti i giorni si occupano di disabilità e problematiche ad esse legate toccanti ed emozionanti le testimonianze di chi vive il problema gli interventi della Presidente dell'Associazione Crescere Insieme Rita Montalbano e del Presidente dell'Associazione Agape Angelo Giaramita ad introdurre il service il Presidente del Circolo di Cultura Giovanni Di Vita particolarmente apprezzata anche la musica colta di Paolo Scanavisti un linguaggio universale che può aglietare e migliorare la vita delle persone con diverse abilità attraverso il linguaggio musicale infatti anche chi ha difficoltà fisiche o motorie può riuscire ad esprimere emozioni e bisogni la rubrica il libro del giorno nell'India del XIV secolo dopo una sanguinosa battaglia tra due regni ormai dimenticati una bambina di nove anni ha un incontro divino che cambierà il corso della storia la giovanissima Pampa Campana distrutta dal dolore per la morte della madre diventa un tramite per la dea sua omonima che non solo inizia a parlare attraverso la sua bocca ma le accorde enormi poteri e le rivela che sarà determinante per la nascita di una grande città chiamata Bisnaga letteralmente città della vittoria nei 250 anni successivi la vita di Pampa Campana si intreccia profondamente con quella di Bisnaga con il passare degli anni con l'avvicendarsi dei governanti delle battaglie vinte e di quelle perse il tessuto stesso di Bisnaga diventa un arazzo sempre più complesso al centro del quale resta però comunque la nostra eroina strutturato come la traduzione di un'antica epopea la città della vittoria è una saga di amore avventura e mito è una testimonianza del potere della narrazione la città della vittoria di Salman Rusdie edito Mondadori Apriamo la pagina dello sport trasferta a Licata per una cospicua rappresentanza di podisti saccenzi impegnati nella seconda tappa del Grand Prix regionale di Corsa su Strada nel servizio spazio anche agli arti marziali con la Eppon Karate Lentini che ha conquistato quattro medaglie all'Open di Toscana nel Kumite vediamo un folto gruppo di runners saccenzi ha partecipato alla tradizionale Stralicata seconda tappa del Grand Prix regionale di Corsa su Strada che si è svolta per l'Appunto a Licata gara vinta da Salvatore Pizzitola in forza all'Atletica Olympus con il tempo di 32 minuti e 32 secondi competizione di 10 km primo dei saccenzi è stato Tony Puccio della ASD Shack Running giunto sesto assoluto e primo nella sua categoria di appartenenza SM45 a seguire come tempi troviamo Michele Guzzardo Domenico Sclafani Domenico Piazza Gaspare Allegro Antonino Mandacchia Vito Bono Alfonso Gambino Giussi Baldassano Ignazio Bivona Sergio Raso e Rosaria Chiaramonte della Polisportiva Gatocle classificatasi prima nella categoria SF65 per Giussi Baldassano anche il personale best time su 10 km il prossimo appuntamento adesso è tra due settimane a Messina per la terza tappa del Grand Prix regionale di corsa su strada un altro atleta della Gatocle Sciacca infine ossia Giuseppe Chiarantano ha preso parte alla Maratona di Bologna fornendo una buona prestazione agonistica e passiamo alle arti marziali alla ventesima edizione dell'Open di Toscana che si è disputata a Follonica c'era anche la Ippon Caratelentini di Sciacca che come sempre si è disimpegnata nel settore Kumite alla gara in generale hanno preso parte più di 1400 atleti e 257 società provenienti da tutta Italia e in pedana anche loro per la specialità Kumite ottimi risultati per il sodalizio di Piero e Marco Lentini Irene Marturano ha conquistato l'oro tra gli under 18 fino a 59 kg Andrea Danna Argento tra gli under 21 fino a 60 kg Emma Colletti bronzo per gli under 18 fino a 48 kg e infine Paolo Propizio bronzo per gli under 18 fino a 68 kg niente da fare invece per gli altri atleti del team ossia Giuseppe Gigliotta Liborio Dazzo Nicolò Alfano Calogero Turturici e Ignazio Raneli che pur avendo superato due o tre turni poi non sono riusciti a raggiungere le fasi finali della gara ad accompagnare i ragazzi in Toscana il tecnico Marco Lentini Ancora sport seconda vittoria consecutiva per il tennis club sciacca nel campionato nazionale di serie C stavolta la squadra di Sclafani e Colletti ha superato il temibile Palermo 3 in uno scontro che potrebbe risultare decisivo per il futuro del girone e per l'accesso ai playoff sentiamo seconda vittoria consecutiva per il tennis club sciacca Tulone Olio nel campionato nazionale maschile di serie C questa volta la compagine locale ha superato con un netto 6 a 0 il tennis club 3 Palermo della famiglia Carollo un incontro che potrebbe risultare già di fondamentale importanza per il proseguo del girone e per l'obiettivo dell'accesso ai playoff la terza giornata del torneo ha detto che il tennis club sciacca ha una squadra di tutto il rispetto e che può sicuramente dire la propria nel girone così come già avvenuto nei due campionati precedenti la squadra capitanata da Enzo Colletti e Franco Sclafni è stata rafforzata per l'occasione dalla presenza del forte tennista Norbert Talitzak che insieme a Gabriele Dolce ha dato il giusto equilibrio al team le soddisfazioni maggiori però sono arrivate dall'under Christian Fanara che ha messo in campo due splendide prove sia in singolare che nel doppio bella prestazione pure per il maestro Domenico Caracappa sempre pronto a dare un supporto alla squadra nonostante le condizioni meteo non buone gli incontri sono stati seguiti da una buona cornice di pubblico ed appassionati questi i risultati delle partite Gabriele Dolce ha battuto Marco Carollo 7-6-6-0 Norbert Talitzak ha superato Stefano Carollo 6-1-6-2 Christian Fanara ha avuto la meglio su Luigi alla Mia 6-2-6-2 Domenico Caracappa ha vinto contro Fabio Ammirata 6-2-6-2 nei doppi Dolce e Talitzak hanno superato Ammirata e Nicolosi 6-2-6-2 mentre Fanara e Caracappa hanno vinto contro alla Mia e Carollo per 7-5-7-5 appuntamento adesso per il tennis club Shaka a domenica prossima 12 marzo questa volta in trasferta a Trapani per la quarta giornata del torneo nazionale di Serie C E' davvero tutto noi ci fermiamo qui non prima di avervi ringraziato per la vostra attenzione e di avervi dato appuntamento alle prossime edizioni grazie ancora arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.